Mi chiamo Diane Lennart, sono un'artista italo-belga nata e cresciuta in Francia. Sono autrice e illustratrice per libri per ragazzi. Abbiamo libri per ragazzi dai 2 anni fino ai 14 anni e anche narrativa per adulti. Questo marchio per ragazzi, il Puntino, è nato un anno e mezzo fa, piace tantissimo. Il nostro titolo di punta è questo qua, Leonardo Treigno in ritardo, che piace tantissimo ai bambini. La storia di questo Treignino che si sveglia una mattina nel suo deposito e affronterà tante avventure prima di arrivare al suo appuntamento importantissimo con Rosa, la sua fidanzata, che lo aspetta per un'occasione molto speciale, loro due si devono sposare. Quindi questo qua piace tantissimo ai bambini. E tutto è nato da questi tre libri qua, i Tutti Frutti, un mondo abitato da personaggi a forma di frutta e verdura con il testo in tre lingue, infatti, francese, italiano e inglese. Per quello che riguarda i libri per adulti abbiamo romanzi storici, di fantascienza, horror, noir, fantasy. Noi vorremmo espandere il catalogo per ragazzi che, meno male, funziona abbastanza bene. Ad esempio, sempre nel genere mezzi di far sport abbiamo un progetto, un libro su un sottomarino con l'inquinamento del mare e questo speriamo che funzioni così bene come il trenino e Paolino l'aereo postino.